Non è sempre una misazione, qui non c'è coreografia anche perché sono binocchero, sono ballerini di sala quindi la coreografia non la usano, non so nemmeno che cosa balleranno, me lo dite per esempio? Non lo dico, non lo sanno neanche loro, vabbè fa niente, ha un tango della Victor, coquetta della Victor Grazie a tutti 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 Grazie a tutti